e ritorna il nostro amico biblista padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche trasforma anche lui come il Vangelo la nostra vita ben trovato buona Pasqua della settimana buona Pasqua della settimana a voi è vero Anna Maria devo confessare che dovendo sempre lavorare insegnare fare la trasmissione ho la fortuna di stare sempre nella parola io ho cambiato indirizzo ormai abito nella parola quando mi dicono dove abiti abito le scritture e si mettono a ridere ma è la verità la parola ha ragione Paolo e Luca negli altri la parola ci porta e questa è un'esperienza bellissima della nostra trasmissione ecco tu l'incontro con Cristo lo hai fatto ti ha trasformato la vita e in questo modo insomma speriamo di essere contagiati tra virgolette anche noi io direi che la cosa più bella della mia vita è stato l'incontro lo scontro incontro con lui quindi un po capisco la pagina di oggi di Zaccheo che pure è uno dei capi degli esattori domenica scorsa abbiamo visto un pubblicano quindi un esattore qui siamo davanti a uno dei capi quindi un personaggio importantissimo a quel livello e purtroppo è un esattore è uno dei capi una figura molto conosciuta nel suo paese ecco perché Luca ce lo descrive in realtà dobbiamo dire che l'evangelista Luca ama mettere insieme i personaggi domenica scorsa noi abbiamo avuto il fariseo e il pubblicano io consiglio oggi ai nostri amici di leggere anche la pagina del cieco che è un po prima 18 35 41 sono proprio i 6 7 versetti che precedono Zaccheo perché Luca direi con un'accortezza e una saggezza tipicamente del discepolo di Gesù ci mette davanti due itinerari verso la luce e quindi c'è il cieco chiuso nel suo mondo il quale non solo ottiene la salvezza da Gesù ma ottiene la vista fisica invece qui Zaccheo è cieco in un modo diverso alla cecità sugli altri non se ne accorge proprio che esistono i poveri alla fine lui non solo ha una guarigione spirituale ma addirittura si accorge finalmente che esistono i poveri e che non sono persone da opprimere o persone da sfruttare quindi i due itinerari li potremmo definire itinerari verso la luce tutte e due i racconti quello del cieco e quello di di Zaccheo sono ambientati a gerico che è una delle città più antiche del mondo e a pochi chilometri dal fiume giordano ma anche dal mar morto ha una bellissima oasi che un luogo di passaggio tutti si fermano per poi salire a gerusalemme erode il grande vi aveva fatto costruire degli edifici molto belli di stile ellenistico ecco li tirerario che inizia già col cieco il quale sentendo tutto il baccano che c'è perché Gesù è presente lo chiama Gesù il nazoraio abbi pietà di me nazoraio da nazir nezzer nezzer è il germoglio in come dice anche il nostro testo biblico il messia è il germoglio della radice di davide quindi lo chiama così Gesù figlio di davide abbi pietà di me poi lo chiama figlio di davide alla fine rabbunì e quest'uomo alla fine davvero non solo ci vede fisicamente ma ha acquistato quel rapporto di fede con il signore l'altra parte mentre lui stava seduto sulla via a mendicare ora vede addirittura in piedi sta dietro Gesù l'altra figura invece di confronto che luco vuole far confrontare col cieco è proprio zaccheo il quale vedendo che Gesù è entrato in gerico e che l'altra versa che cosa fa quest'uomo che porta un nome anche importante zaccheo per dirlo anche alle nostre amiche e i nostri amici è la forma greca la forma greca deve essere zaccaria quindi zaccheo è una forma abbreviata di zaccaria che in ebraico suona zaccai il puro il giusto certo porta un nome che è un controsenso lui che porta il nome di essere giusto e puro in realtà è il capo dei pubblicani prodice luca cercava di vedere chi fosse Gesù era piccolo di statura ma in realtà non è la sua statura bassa che non gli permette di vedere Gesù in realtà quest'uomo è conosciuto dalla gente la gente sa che un peccatore pubblico per cui lo tengono alla larga e allora si arrampica su un sicomoro una sorta di figo selvatico su cui è facile arrampicarsi perché i rami sono quasi vicino a terra e sale per aspettare che Gesù passando lui lo voglia vedere ed è Gesù che prende l'iniziativa mentre zaccheo corre avanti sale e aspetta che Gesù possa passare evidentemente zaccheo dimostra anche molto acume intelligenza luca vuole quasi dirci che la fede comprende anche questa intelligenza intelligenza non è solo curiosità è il desiderio di incontrare Gesù c'è qualcosa che lo spinge l'incontro con Gesù nasce già quando lo spirito dentro di noi ci motiva ci spinge ma a questo punto mentre zaccheo ha preso la sua iniziativa risponde anche Gesù come sempre succede è Gesù che alza lo sguardo e gli rivolge la parola zaccheo scendi con sollecitudine non con fretta con sollecitudine perché oggi bisogna che mi fermi a casa tua immaginiamo immaginiamo che impressione abbia avuto zaccheo è un'espressione quella di Gesù sorprendente è un po come fa spesso anche il nostro papa Francesco sorprende chiama va a trovare delle persone è un Gesù che sorprende che bello lui che va a casa di questa pecola perduta o di questo figlio degradato dovremmo dire usando le parabole di luca no anche l'avverbio è molto forte oggi che ci ricorda oggi sulla spienata di betlemme ai pastori l'angelo dice che è nato il salvatore oggi lo dirà Gesù anche sulla croce a quel malfattore che abbiamo citato anche domenica scorsa e c'è una reazione davanti a tutto questo perché luca nota vedendo tutti gli altri mormoravano il verbo è molto forte e quindi indica come dire la richiesta di un diritto che si pensa non sia osservato ma ma chi chi mormora contro chi mormono queste persone zaccheo era arcinoto per cui la mormorazione è verso Gesù ritenuto un grande maestro possibile un grande maestro va alloggiare in casa di un pubblico peccatore e qui la reazione una reazione una reazione che ancora oggi pure noi forse notiamo zaccheo invece è sollecito accoglie Gesù il verbo lo abbiamo trovato anche nel capitolo 10 per Marta che lo accoglie esattamente lo stesso verbo e Gesù è in piedi è la posizione del risorto parla e quando sente parlare il nostro zaccheo il quale per due volte chiama Gesù chiuri è signore 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 ecco signore do la metà di miei beni ai poveri e dal momento che ho derubato restituisco il quadruplo l'incontro con Gesù non solo è liberante ma ci fa capire che zaccheo prende coscienza dei torti che ha fatto subire gli altri e dando la metà dei poveri e restituendo il quadruplo lui non sta facendo altro che citare la legge quest'uomo lontano dalla legge la conosce ma non la viveva l'incontro con Gesù effettivamente lo porta a vivere una diversità e Gesù risponde con quell'adagio profetico cercare e trovare lui è venuto a cercare e a trovare questa pecora perduta perché Gesù definisce il nostro zaccheo figlio di Abramo evidentemente a chi lo dice alle persone che stanno criticando anche zaccheo pur essendo un pubblico peccatore è un figlio di Abramo e quindi è davvero molto bella questa espressione Gesù è venuto a cercare e a trovare tutti quelli che sono stati abbandonati quelli che noi riteniamo ingiusti come il pubblicano del tempio di domenica scorsa il Signore cerca queste pecole perdute ed è molto bello vedere che Gesù lo chiama figlio di Abramo San Cipriano fa una bellissima osservazione su questa autenticità della fede dice proprio che il Signore chiama zaccheo figlio di Abramo perché davvero riconosce in questo uomo un figlio di Abramo che viene riportato all'ovile è colui che ha maturato la fede nell'incontro al Signore e quindi conserve in quel momento il timore di Dio si mette davanti a Dio e riconosce di aver finalmente fatto spazio nella propria vita al Signore anche un peccatore può essere incontrato da Dio anzi in Gesù Cristo il Padre cerca queste persone per portarle a casa come ha fatto con Zaccheo ecco e dovremmo porci tutti al termine di questa domenica una domanda riusciamo a prendere anche noi una decisione vera di cambiare vita come ha fatto Zaccheo appunto? si tratta di aprirsi come ha fatto Zaccheo infatti Cipriano dice dove sta l'autenticità della fede quando hai il timore di Dio che cos'è il timore di Dio? avere coscienza di stare davanti a colui che ci offre la salvezza torniamo al Vangelo di domenica scorsa ti ricordi il fariseo? non si aspetta nulla da Dio mentre il povero pubblicano si aspetta dal Signore Zaccheo è esattamente in questo atteggiamento di umiltà Dio vuole accoglienza di un dono che viene sempre dall'altro perché la fede è un dono che viene dall'altro ma è un dono da accogliere e da sviluppare quindi un dono è una risposta da dare giorno per giorno non è che si dà una volta per sempre ogni giorno dobbiamo dare la nostra risposta ed è sempre lui poi che prende l'iniziativa Gesù quindi può cambiarci e trasformare il nostro cuore grazie Padre Ernesto grazie a voi e facciamo il nostro il salmo di oggi grande il Signore a lui solo la lode una grandezza che oltre ogni scienza buona Pasqua della settimana Shalom Shalom Grazie a voi